amiche amici benvenuti in amazing trek sono pierre la vostra guida escursionistica che vi accompagnerà lungo itinerari escursionistici stupendi in italia e all'estero sul canale di amazing trek troverete video guide gratuite di itinerari escursionistici recensioni su abbigliamento e attrezzatura escursionistica consigli pratici sull'attività escursionistica approfondimenti di carattere naturalistico storico culturale dell'enogastronomia locale e di tutto ciò che riguarda il mondo della montagna in particolare e dell'escursionismo amazing trek l'escursionismo dove vuoi quando vuoi e come vuoi se vi piace amazing trek iscrivetevi al canale e spolliciate sui video